Buongiorno a tutti, siamo qui con Davide Pasini, utility back dell'HBS Colorno. Davide, la tua prima stagione è qui e sei già stato impiegato tantissimi minuti in campo. Te lo aspettavi? Buongiorno a tutti, sicuramente sono contento di quello che stiamo facendo, che comunque sto facendo qui a Colorno e contento anche di giocare così tanto, vuol dire che comunque sto lavorando bene e penso che fa solo che piacere. L'auspicio quando sono arrivato qua era proprio quello di giocare tanto e comunque di tirar fuori il meglio per la squadra e sta andando bene. Una domanda un po' particolare, qual è la settimana tipo del rugbyista qui a Colorno? La settimana tipo ti descrivo la mia, la mia si inizia il lunedì e il martedì mattina in cui abbiamo la sessione di palestra, poi alla sera ovviamente l'allenamento con la squadra e non tutte le settimane abbiamo chi è stato, chi vuole fare questo incontro con il mental coach, abbiamo una volta ogni due settimane questo incontro con il mental coach, che penso sia una figura molto valida e molto utile all'interno di un team che viene molto usata soprattutto in altri sport e nel rugby un po' meno, però penso che questa figura venga fuori nei prossimi anni. Io personalmente la uso e mi trovo bene. E poi si prosegue con il mercoledì libero, giovedì sempre mattino palestra e alla sera abbiamo un allenamento tutti insieme, poi il venerdì se la partita è il sabato c'è la rifinitura tutti insieme e il sabato la battaglia. Dal punto di vista sportivo nelle ultime partite si sono visti dei netti miglioramenti nel vostro gioco. Sabato arriva forse il match più importante della stagione, il derby salvezza con i Lions Piacenza. Quanto sarà importante entrare in campo con la giusta grinta e concentrazione? Ti parlo da ex del Piacenza, io so perfettamente com'è l'ambiente lì, come preparano le partite e come affrontano le partite, quindi penso che sabato sarà una battaglia forse la più tosta finora, perché loro non mollano un minuto, non mollano un centimetro, quindi bisogna andare in campo con grandissima determinazione, bisogna avere, come diciamo noi, più palle di loro e bisogna essere soprattutto disciplinati anche nel nostro campo, perché loro hanno un buon piede, un buon piazzatore e cercheranno di portare a casa più punti possibili quando entrano nella nostra metà campo. Quello che dovremmo fare noi, perché penso che nelle ultime partite l'aggressività, la voglia, anche il gioco ci sia stato, però forse pecchiamo ancora un po' negli ultimi venti metri. Negli ultimi venti metri troviamo un po' con la finalizzazione, quello è un po' il nostro tallone d'Achille e quindi dobbiamo lavorare su questo, stiamo lavorando su questo e basta. Tanta attitudine, sabato secondo me faremo bene. Dunque Davide, grinta e determinazione le due parole chiave. In bocca al lupo per il derby e per il proseguo del campionato. Colgo l'occasione per invitarvi tutti allo stadio sabato, perché sarà uno spettacolo, penso che sarà una partita molto divertente per tutti e vi invito anche allo speciale pranzo che ci sarà qui nella Clubhouse del Rugby Colorno con il tipico Tolpedals di Colorno. E quindi niente, vi aspetto, vi aspettiamo e ciao a tutti. Grazie a tutti.